Non è questo l'amore. Non pensate sia il momento di cambiare vita? Per andare dove? Il conte di Barry vuole che vi presenti il re. La contessa Jean du Barry! Mi raccomando, non guardate il re negli occhi. Sarebbe visto dalla corte come un invito. Un invito a cosa? Alle vostre grazie. Che sfrontatezza! Padre, siamo lo zimbello di Versailles per la vostra intemperanza. Il primo ministro...